Si è iniziato a fare politica nel 1995, e nel 1995 si è votato per tanti referenti, alcuni dei quali riguardavano le televisioni. Tutto il tema era semplicemente il rapporto duopolio-Rai-Mediaset. In questo territorio nazionale amplificato il fatto che la parte privata esprimeva nell'autorità un politico nazionale di primissimo ordine, che è già Presidente del Consiglio e che poi l'avrebbe rifatto con la Dio Berlusconi, ma il dibattito sembrava forse soltanto su quel tema lì. Oggi, 12 anni dopo, 13 anni dopo, il Presidente della Rai, incontrando 30 ragazzi, 30 donne, uomini, futura classe dirigente, attuale classe dirigente, dice «Signore, abbiate coraggio perché le sfide vere, sintetizzano brutalmente, ma dico la parte che mi sono preso io, come fossi un borsista, di eunomia, proprio eunomia, questo quello che ha detto la professoressa prima, abbiate coraggio perché le sfide che avete di fronte sono ben diverse». Ed effettivamente io mi circolo molto in questo, rapidamente tentando di recuperare gli otto minuti di sforamento parlando otto minuti in meno io. E dice «Roi, vediamo». Poi ci faccio qua, ci siamo proprio, ho fatto bella figura spesso. Allora, sintesi del… faccio un esempio, chi di voi è un tennista saprà che la storia del tennis è stata rivoluzionata da John McRaw, questo è un dato di fatto oggettivo, anche chi è per l'end, chi è per il volume, è un dato di fatto. Nel 1980 John McRaw vestiva Sergio Sacchini. La maglina, la maglietta di John McRaw era una maglietta di 16, però dove vuoi arrivare? C'è riuscito. In realtà, al di là degli aspetti temistici della sconfitta con il buono della vittoria dell'anno dopo, della rete, ce ne frega niente di questa parte che c'è, interessante, ma intorno alla figura di John McRaw non soltanto si modifica l'idea del tennis, ma cresce, nasce e si sviluppa con una sabiente opera di comunicazione e di marketing di identità principale azienda al mondo di abbigliamento non solo sportivo, che è la Nike. La Nike, 30 anni fa, era in un, non dico in uno scartinato perché è un'espressione assolutamente esagerata, dell'Oregon, di Portland, vicino a Portland, ed era sostanzialmente una realtà che non esisteva come brand globale. Sceglie un soggetto, in questo caso McRaw poi, ovviamente ripartono ormai con John, tanti altri, nel corso degli anni, di questi 30 anni, e lo incarica di rappresentare un'idea di consumatore finale, vale a dire il McRaw o il McRaw, ciascuno di noi, ciascuno di noi consumatori, poveri, globali, potenziali, inizia a rappresentarsi e a immaginarsi. È un trionfo della comunicazione che non ha niente di politico, se non la capacità di dimostrare che non c'è più il meccanismo per cui ci sono gli altrimenti e bisogna comunicarli bene. No, in realtà si competa l'idea stessa con il modo con il quale essere da rappresentare. E gli esempi possono essere, quello assolutamente banale che vi ho fatto della Nike, ma possono rientracciarsi nel corso della storia di questi 30 anni della politica in modo straordinariamente affascinante e straordinariamente divertente. Prima il Presidente Petriccioli ricordava che persino nel rapporto tra un uomo e una donna la comunicazione sia nell'equito fondamentale, ovviamente, soprattutto anziché persino... Cominciare. Cominciare. Oggi, diciamo, parlando di rapporto con la comunicazione, uno pensa davanti al governatore di New York, client 89, client numero 9 della signorina della lunettina, diciamo. Ma se ci pensate, per restare su questo tema qui, per non dico buttarla sul ridere, ma andando molto sul concreto, guardate cosa succede negli Stati Uniti, tra 1988 e 1992, lo stesso fatto, c'è un candidato democratico forte. Oddio, era più forte quello dell'88 che quello del 92. Quello dell'88 si chiamava Gary Hart e quello del 92 era Bill Clinton. Tutti e due si fanno, in qualche misura, beccare con una scappatella. Nel caso di Clinton, la storia dimostrerà che, diciamo, la mollecava con una, ma, diciamo, Donna Rice per Gary Hart, Jennifer Flowers, o una delle tante di Bill Clinton. Bene, il modo con il quale il candidato annuncia il fatto e chiede scusa, nel caso di Clinton, ai cittadini, alla moglie, e quindi non è... Non è già stato eletto, Clinton. No, ma no, 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 no. Il campanile... Sono assolutamente certo che la... Diciamo, Clinton ha avuto altri... Mi ci sei dubbi, non veramente. Ma... Prima, dopo, durante, la sensazione è questa, no? Ma la vicenda della Jennifer Flowers è del 91. Cioè, è... E lui sceglie, addirittura, le modalità assolutamente straordinarie con le quali lui comunica con accanto la moglie, e va bene, il caminetto dietro acceso, tipico casino americano, e lui spiega che si è trattato di un atto assolutamente unico, irripetibile, direttamente, diciamo, ma è l'idea, no, che lo stesso fatto a distanza di 4 anni comunicare in modo diverso ha una profonda... Diciamo, diventa fatto politico. E potremmo continuare. Io mi limito a dire che questo cambiamento profondo nel quale siamo i mezzi, di cui il Presidente Periccioli parlava al suo intervento, è talmente forte e significativo, talmente rilevante, che, come dire, noi non possiamo far finta che il dibattito sia un dibattito come quello a cui spesso assistiamo. C'è un dibattito fatto di frasi fatte e di concetti abbastanza triti e migliori. Il De Boi, il Marete, cioè quando io sento, non la voglio mettere ovviamente in una considerazione politica, però Dario permetterà che parli male del mio schieramento, quindi va bene, quando sento un... io sono del Partito Democratico, quando sento un soggetto, quale Pancio Pardi e il suo capo di Pietro, porre come tema fondamentale il fatto che si debba rimanere una rete, una Mediaset, mandare le rete, quanto sull'attività, tornare, rimettere l'orologio della storia indietro gli anni. A me non interessa questo, posso dire una cosa, a me interessa tentare di dare una risposta a quello che dice Periccioli, ma provocando poi provocando. Mi interessa, non soltanto che si faccia una riflessione sul servizio pubblico, ma che Mediaset cresca come soggetto oggi italiano forte nel campo di quella convergenza di comunicazione, la convergenza digitale, che era fondamentale. Qui pongo un semplicissimo resoconto dei miei quattro anni in provincia, arrivo in provincia e propongo di fare una televisione, o meglio una televisione, uno strumento televisivo dell'amministrazione provinciale, polemica, delle riemo locali, non solo, l'idea era semplicemente quella di dire anziché di evitarsi a fare comunicati stampa, facciamo anche comunicati in video, facciamo cioè un lavoro anche di immagini e mettiamolo in modo diverso. Allora, coloro i quali ci proposero, diciamo meglio, coloro i quali ci fecero dall'advisor per questa iniziativa, ci dicevano che l'unica soluzione era satellite. Un anno dopo l'unica soluzione era la tv via internet. Due anni dopo era la digitale terrestre. Cioè, ha ragione il presidente del riuscire a dire signori, non è un problema di contenitori, ma è un problema di contenuti. Allora io sono affezionato che da un lato il mio servizio pubblico competa con la BBC, anzi, possibilmente sia in grado di superare la BBC. Perché se è vera la stretta integrazione tra i temi posti da Petruccioli prima, per cui rispondere alla domanda di che comunicazione vogliamo significa rispondere alla domanda se esiste o no l'Italia, allora mi viene da dire che io ho interesse a che il mio servizio pubblico sia in grado di vincere le sfide che il paese deve vincere. Perché soltanto questo paese può giocare alcune carte, una diversa frizione di beni culturali, un ragionamento diverso sulla competizione nel mondo globalizzato e quant'altro. Ma mi interessa anche che un soggetto italiano, visto che si parla di italianità, abbia tutte le condizioni, io non dico abbia i favoritismi, perché in un mercato liberale, abbia tutte le condizioni per giocarsela sul mercato europeo e perché no sul mercato mondiale, come produttore di contenuti. Poi io posso dire che l'idea dei contenuti che spesso arrivano dal servizio privato in questo paese sono culturalmente non particolarmente implicati. Ma posso dare un ucizio di merito da consumatore. Dal punto di vista politico ho il dovere di creare le condizioni perché nessuno vada a rompere le scatole a un soggetto che lavora nel mercato internazionale e globale. E questo accade, mi avvio rapidissimente alla conclusione, in un contesto nel quale Dario lo richiamava al tempo delle nuove tecnologie, l'esplosione delle nuove tecnologie è assolutamente affascinante. Quando nel 1995 noi votavamo per il referendum, io ero il primo voto, non ho detto che è il secondo, perché ho votato già nel 1994. Insomma, ero uno dei primi voti che davo, quello del referendum, il referendum sulla mamma, la legge del 1990 che veniva ricordata prima dal presidente. In realtà nel 1995, proprio in quei giorni, due ragazzini sbarbatelli di Stanford creavano in Silicon Valley Yahoo e due ragazzini sbarbatelli di Stanford, quasi in competizione, creavano Google. Yahoo qualche mese prima e Google qualche anno dopo. Rispetto ad allora, il mondo è totalmente da una parte, Google ha rivoluzionato non soltanto diciamo l'idea della comunicazione, anche l'idea della comunicazione. Il nostro è un bambino di 7 anni, il mio bambino di 7 anni, le ricerche le fa con Google.